ciao fans siamo qua sul cancello di casa sono le 11 quindi è tardi e stiamo per partire per una nuova avventura dove stiamo andando? lontano dal cancello che fa caldo stiamo andando in quel di bergamo brescia stiamo andando a fare il passo croce domini e non mi ricordo più strada della forra tre mosine e prima di arrivare lì in realtà facciamo tutto lungo lago di seo senza magari prendere molte stavolta eh ma lo facciamo dall'altro lato però ho già visto che google qua mi segnala che ci sono gli autovelox bene vabbè stiamo attenti andiamo piano sei molto preparato l'ho fatto io l'itinerario detto questo visto che dobbiamo andare a prendere l'autostrada e praticamente da qua a quando usciamo dopo bergamo tutto statale autostrada eccetera direi che ci possiamo teletrasportare fuori dall'autostrada cosa dici? bene trasporto bene finita statale finalmente usciamo comunque quanti autovelox in questa zona cioè è imbarazzante veramente solo quando abbiamo fatto quel giro in liburi e toscana ce n'erano di più comunque luna non ho per niente un buon presentimento eh vabbè dai ormai sono qua ti ricordi quando ho detto cavolo non abbiamo preso l'antipioggia e tu hai detto ma cosa vuoi che serva? no ho detto che non era perché c'è pioggia che c***o è? ma cos'è un fiume? guarda c'è un fiume più guardo le nuvole più sono convinto che la prenderemo boh magari è un po' solo un buvolo questa è un antipioggia molto male ma è come facciamo come simba io rido in faccia al pericolo ma tutto bene? ma tu more ci sono i canali?